Goldbet è una squadra che negli anni ha fatto la storia di questo campionato, li conosciamo perché prima dell'A2 li abbiamo affrontati, una squadra che gioca bene a calcio, a viso aperto, sono tutti molto bravi, tecnici, giocano anche una squadra tutti assieme, quindi sono meritatamente primi in classifica, sarà sicuramente una bella partita, ci faremo trovare pronti.